Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video e la mod di oggi è la guida craft praticamente creiamo il nostro bel libretto che ci aiuterà a craftare tutti i materiali ho sposto un po' il microfono, ecco tutti i materiali esistenti su minecraft praticamente questo libro ci aiuta a ci da praticamente tutti i crafting di minecraft e anche se avete delle mod installate quindi vi aiuta anche con le mod praticamente se avete una mod e non sapete come si crea qualcosa in questo libro c'è scritto quindi praticamente è un libro che c'è tutto scritto scusatemi che adesso mi va davvero lento minecraft a 2 fps 3! oddio! ok, ecco il nostro libro tanto che vi parlo, aspetto un po' che si alza un po' gli fps spostiamolo qua oh, benissimo, togliamo questa roba proviamo a saltelare un po', vediamo se tornano gli fps eccoli ok, quando avremo il nostro libro in mano premiamo il tasto destro oddio, perdonatemi ok, e avremo qua tutti i crafting esistenti su minecraft voi scendete e li troverete praticamente tutti, tutti tutte le cose, tutte le cose che si possono creare con tutti gli oggetti come vedete anche le mod adesso non so se proviamo a cercarle scendiamo, scendiamo scendiamo, 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 scendiamo non penso ci sia la mod adesso anzi forse si, l'ho lasciata apposta per farvi vedere che c'è anche il crafting della mod che non c'entra eccolo della mod che non c'entra niente con minecraft quindi guardate un po' voi questo qua è il crafting della mod che ho installato prima che ho fatto il video ieri beh è davvero molto molto utile come mod per chi non è magari esperto ma anche per gli esperti anche per me che gioco a minecraft da tipo due anni questa mod è davvero molto utile quindi raga, mo spiego come installarla e ci sentiamo al prossimo al prossimo video cosa? mo spiego come installarla bella? ok ragazzi allora, allora, allora ci serve mod loader e guida craft vi lascerò il link in descrizione dove venite su questa pagina scendete, scendete scendete e qua troverete download guida craft oh mio dio non riesco a sottolinearlo eccolo, ce l'ho fatta, sì e cliccateci sopra vi porterà in questo link ad fly voi aspettate 5 secondi e cliccate su avanti poi trascinate sul desktop mod loader sapete già come si installa poi andiamo su %updata% quindi %updata% punto minecraft punto minecraft bin bin apriamo l'ultimo file minecraft con odio, scusatemi con un irar o 7zip quindi minecraft.jar con un irar o 7zip eliminiamo la cartella metainf scritta in maiuscolo che si trova praticamente qua la dovete eliminare se no la moda non funzionerà dopo aver fatto ciò noi apriamo il pacchetto zip della mod guida craft prendiamo i due file class e le due cartelle e il trascignone entro minecraft.jar e facciamo ok la stessa cosa facciamo con mod loader prendiamo tutti i file e il trascignone entro minecraft.jar e facciamo ok bene ragazzi avete finito io vi saluto ringrazio tutti gli iscritti ci vediamo al prossimo video ciao ciao